La MIMEP vi propone un libretto per l'estate, per i ragazzi di elementari e medie, per convivenze comunitarie e vacanze, dal titolo Un corpo solo, sulle orme di Francesco per incontrare Cristo. Proponiamo un agile testo che con 20 incontri accompagni le esperienze dell'estate con i ragazzi, con una particolare attenzione alla figura di San Francesco d'Assisi e di Papa Francesco. Libretto di 60 pagine, tutto a colori, prezzo speciale 1,80€. Prenota subito le tue copie, manda un'email a info-mimep.it o telefona allo 0295 741 935. Visita il sito www.mimep.it.